Filippo, un primo tempo complicato, ma nella ripresa con determinazione e carattere siete riusciti a portare a casa un punto importante. Sì, a fine del primo tempo il Ministero ci ha dato una bella scossa toccando i punti giusti. Penso che a gran parte di noi, almeno parlo per me, sono venuti brividi. Siamo entrati nel secondo tempo con un approccio diverso e sono contento di questa reazione della squadra. Il secondo punto della stagione è arrivato stasera in rimonta come a Bologna. È un Verona di cuore e di carattere che non molla mai questo? Noi ci conosciamo da 3-4 anni che questo è il nostro DNA, anche prima. Diciamo che è la caratteristica che ci contraddistingue dalle altre squadre e sicuramente non perderemo quest'anno il nostro DNA. Per te stasera è arrivata la terza presenza stagionale dopo quella da titolare contro l'Atalanta. Quanto sei soddisfatto? Che soddisfazione è per te? Soddisfatto non ancora perché mi conosco e so che ho grandissimi margini di miglioramento. Sono tranquillo perché so che c'è uno staff dietro di me che cura i dettagli e ci tiene molto ad aiutarci. Quindi sono fiducioso che posso crescere ancora tanto sotto tutti gli aspetti. Che emozione è giocare nella squadra della tua città, quella in cui sei cresciuto fino al settore giovanile? È bello perché intanto mi piace perché rendo orgogliosa la mia famiglia e il mio papà in particolare che anche lui vestiva questi colori e quindi mi riempie di orgoglio e quindi naturalmente è una maglia che sento tanto, mi appartiene e spero di regalare il più gioia possibile a questa gente, a questa città. Adesso c'è subito da tornare a lavorare perché domenica si torna già in campo contro la Sampdoria, sarà una sfida importante. Adesso stacchiamo un attimo e recuperiamo, da domani si lavora e si va a affrontare la Sampdoria che è una grande squadra e tutte le partite per noi contano tantissimo, ogni partita è come fosse l'ultima e siamo fiduciosi che faremo una grande partita anche domenica. Grazie.